In acqua la seconda serie presentiamo ai blocchi la prima serie dei 50 rana femminili esordienti A In 1 Lavinia Mascotto, Aquapolis, in 2 Elena Piovesan, Natatoru, Triso, in 3 Marta Andretta, Arca Nuoto, in 4 Ece Hildrim, Turkish Team In 5 Jennifer Parolin, Rosa, in 6 Giulia Furian, Piavenuoto, in 7 Sofia Sant, Arca Nuoto, in 8 Giulia Gradinaru, Arca Nuoto Queste le atlete protagoniste tra poco per la prima serie in acqua la seconda serie Il momento miglior tempo è 43-44 Si conclude la serie 2 con Emma Svaldi, 42-28, va al comando a classifica provvisoria Alla partenza, la prima serie